T.R.T. Luce ha partecipato alla sostituzione degli apparecchi illuminanti di illuminazione del perimetro esterno di Palazzo T, sostituendo l'illuminazione preesistente realizzata anni fa con tecnologia scarica ormai obsoleta con nuovi apparecchi illuminazione a LED, aumentando sia il numero di corpi illuminanti sia il numero di pali che li sostengono. I precedenti corpi illuminanti erano 41, sono stati aumentati a 54, reducendo comunque il consumo energetico del 65%, mantenendo tuttavia la stessa illuminazione delle facciate, ma aumentando la percezione di uniformità sulle facciate stesse. È stata inoltre riqualificata l'illuminazione del passaggio pedonale che costeggia la ferrovia sul lato sud, aumentando i livelli di illuminamento, garantendo maggiore sicurezza a chi transita su questo lato. L'intervento è l'accompletamento dell'illuminazione dei giardini pubblici antistanti al palazzo, che è stato realizzato l'anno scorso. Sono state inoltre riqualificate le due lanterne poste al centro dei giardini, sostituendole anch'esse con nuovi corpi illuminanti a LED che hanno permesso l'illuminazione più uniforme dei giardini. L'intervento ha permesso quindi il conseguimento di un risparmio energetico considerevole, in considerazione del fatto che sono stati installati nuovi apparecchi a LED, ma ha permesso altresì un miglioramento della percezione dello spettatore che si viene a trovare lungo il perimetro o nei giardini riqualificati. Grazie.